benvenuti in questo nuovo video oggi siamo tornati su The Last of Us se non erro parte 6 ci eravamo lasciati che eravamo scappati dai militari e ora stiamo a raggiungere un piccolo un palazzo dove ci si dovrebbero fare le luci per consigliare Ellie ecco, l'ultimo ci eravamo lasciati qua quindi noi uccidiamo di qua beh, il palazzo del governo, da qui eh sì, quel pezzo l'abbiamo visto nel video precedente a fine video quindi apriamo subito la porta eccoci qua ragazzi, e questo non è buono noi abbiamo proiettili, perfetto sì, potrebbe, andiamo via quindi passiamo di qui, eh, qua c'è qualcosa? ok ecco qua abbiamo dei pezzi di metallo, cioè degli ingrenaggi comunque è roba che si doveva craftare e potenziare armi quindi lì non si va, quindi saliamo eh registro operazioni sì, comunque, ok i soldati sono morti aspettando i rinforzi l'abbiamo ricaricato, anche se abbiamo solo due colpi, raga, pochissimo no, no, no ok quindi sono secchi più o meno vedono tramite i pipistrelli come i pipistrelli, non appena senti dei click devi nasconderti ok ci trovassimo altri cogliettini sembra che l'edificio sta per cadere a pezzi ok questo serve per migliorabilità saltiamo fantastico tutto troppo forte ok ok dammi una mano con questa ecco, non abbiamo fatto il tuo emosso, proprio furbissimo, è già quello che è stato obbligatorio ma di usare qualcos'altro eh adesso non abbiamo ottenuto 3.472 cerchiamo provviste ehm, perchè oh è stata tolta perfetto perfetto, abbiamo creato un altro coltello ottimo, con scuola dei colpi molto bene ok, questo servirà per craftarci medikit ok ok, il vaso cosomai non ce l'ho, c'è il mattone che altro che vaso tieni, rimettiti in sesto grazie mille che bravino ok ah, ecco, mi ha dato roba per craftarmelo pacche poteva darmi il medikit già fatto eh, è già troppa fatica forza andiamocelo a fretta niente ah, c'è la porta qua, lol figuriamoci, se non mi faceva spaccare un coltello ok, dicevamo mi hanno fatto spaccare un coltello ah no vabbè prendiamo il vaso cioè, ma c'è lo su sto vaso eh bene, bene raccomando, raidiamo tutto non sia mai che avanziamo qualcosa qua c'è qualcosa bottiglia niente 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 quindi qua beh qua era per risorse, abbiamo capito eh, di qua oh, accidenti ok, non è molto positiva come cosa qui c'è qualcosa saltiamo il biancone apriamo figuriamoci se è cassetto e nero vuoto mi sfida lassù guarda ehi, guarda se c'è modo di passare ok, sei su dai ci sei ecco qua ok tocca a noi andiamo perfettissimo vabbè, si spegne la luce così a caso no buono no buono piano, 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 piano bravissimi fatto ellie, stai bene? bene di qua yes dammi un secondo eccoci ragazzi io risulto che se sentiamo un rumorino così da lontano del mattone, delle bottiglie che sia figurati se non sentono questo però la logica dei giochi è fantastica non guardare in basso ahi cammina cammina ok, tranne dopo vadi vadi, non cinci schietti hai una minima attenzione di andare ok accidenti e voi da nuova arma si, ho capito, ho capito, ho capito, c'ho giocato, devo sto passo hai una minima intenzione, vabbè ok, vedi toh content ho proprio vedi una minima intenzione rimani con ragazza eeeh devo andare giù oh devo andare in due eh oh levi tubo tubo ah cacchio, ho potuto sgozzarlo, questo non era un picco, è porco che ho spiegato un coltello ah si se no son cacchi eh, raga ho fatto una, porca schietta porco schietta, mi sono tirato in mondo pronti Perfetto No cacchio Avevo il coltello Beh però Fail Afer Ok Fini le munizioni Vediamo un po' Cosa riusciamo a fare Lì c'è un clicker Forse ce n'è uno solo Di clicker Se non erro Però purtroppo La memoria Mi inganna Però sono Tre Vai 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 picchiero 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 Va benissimo Tanto muo' siamo tutti morti Ora non c'è più Niente Capito bene Non hai capito bene Non hai capito Non hai capito Non hai capito Niente Non c'è più il clicker Voi potete morire malissimo Ora Ma muori Ma muori tantissimo Perfetto Bene scendi Dopo la piccola pausa pubblicitaria Diciamo Mentre siamo stati molto aggressivi Vai Sono stupita Joy Andiamocene Saluto al massimo Un mattone Un misero Qua No No Qua c'è tutta roba Che non ci serve Perché siamo full vita Abbiamo già un mattone Quindi Questo Però Comodo Ci fa Qua Tocca pochissimo Utiliziamo Vabbè Oui Si Ok, basta così Perfettissimo, questo sì che è il lavoro di squadra Ottimo, ottimo Qua Ma sapete cosa vi dico? Scendiamo nella prossima puntata raga Quindi Io vi invito a passare nel link In descrizione dei social Per seguire tutto quello che facciamo Io e gli altri del canale Per andare a Su Instant Gaming Per giochi scontatissimi Trovate dei prezzi stracciati Per chi non conosce Hanno anche gli abbonamenti per il Playstation Plus Per chi gioca solo su console E per Xbox Live Quindi Trovate Giochi Per lo più per Xbox PC E un pochettino per Nintendo Switch Invece per PS4 O PS3 Trovate sotto l'abbonamento al Plus E le ricariche per i fondi Del portafoglio Io vi ringrazio Da JS è tutto Ciao a tutti Bella Ciao a tutti